Ciao a tutti, io sono Mauro e dal 2019 rappresento Chaporì come presidente in carica dell'associazione. Eccoci qui dopo vent'anni dalla nostra fondazione. La forza di Chaporì sono sempre stati i soci e i volontari che hanno sostenuto nel tempo le diverse iniziative proposte, partecipando a queste fattivamente e concretamente. Il motto è più siamo, più contiamo. Ogni socio di Chaporì può contribuire con le proprie idee, partecipando alle iniziative e diffondendo le informazioni, rendendo ancora più visibili le tematiche in cui crediamo. Il cambiamento è uno degli obiettivi di Chaporì e per festeggiare i vent'anni, oltre alle iniziative che stiamo preparando, abbiamo fatto un passo importante, cioè quello di diventare ufficialmente un'associazione di promozione sociale, APS. Infatti, con l'approvazione della legge quadro del terzo settore del 2017, si è reso necessario un adeguamento formale dello statuto per poter essere ammessi al registro unico nazionale del terzo settore e poter godere dei relativi benefici di legge. Quindi, se tu vuoi ancora essere partecipi di questa esperienza, di un altro mondo è possibile, esprimi il tuo sì, voglio esserci, così come facciamo noi da vent'anni. Concludo citando Giorgio Gaber, che diceva in una delle sue canzoni La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione, la libertà non è uno spazio libero, la libertà è partecipazione. Grazie. Grazie.